E ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti cari esimi videotubisti, sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, benvenuti, benvenuti su Obsidian, benvenuti su questo nuovo video, questa volta tratteremo degli argomenti veramente sfiziosi, divertenti, molto interessanti e utilissimi. Parleremo del Backtricks, questo carattere speciale che permette di definire un blocco, poi andiamo a vedere uno specifico di cosa si tratta e come lo si può utilizzare, veramente interessantissimo, io lo sto utilizzando al lavoro, Obsidian, sto andando avanti, mi sto trovando veramente benissimo, non bene, benissimo. Poi andremo a vedere un'altra cosa interessante, come incorporare i dati in una nota, una nota in una nota, oppure delle immagini o altre cose, come che ne so, un file audio, veramente molto interessante. Ma ragazzi, ragazzi, fermi tutti, prima di proseguire vi ricordo, per chi non l'aveste ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate la pollice in su, lasciate un commento e non dimenticate di attivare la campanellina, così date un supporto al canale. Ma adesso passiamo subito al programma per vedere questi Backtricks, che cosa sono, facciamo così, apriamo, creiamo subito una cartella nuova, la chiamiamo proprio Backtricks e dentro ci apriamo, ci facciamo una nuova nota che la chiamiamo Backtricks. Backtricks. Eccola qua. Benissimo. Adesso iniziamo a definire che cos'è. Allora, il Backtricks ti permette di impostare una formattazione adeguata per i linguaggi di programmazione e codici di sviluppo, in generale, usando questo carattere che è Alt 096, che si chiama in inglese Backtricks, che a che cosa serve? Ne facilita la formattazione e la lettura. Per esempio, formattare visivamente una schermata batch oppure di un programma Java, va definito con tre Backtricks di seguito come apertura e chiusura. Ma andiamo a vedere subito di cosa si tratta. Facciamo un blocco qui, perché poi andiamo a definire un blocco. Quindi Alt schiacciato 096, come vedete, e arriva subito questo carattere Backtricks. Apertura. I primi tre sono l'apertura e gli ultimi la chiusura. Tutto quello che viene scritto nel mezzo praticamente fa parte di un blocco. Se noi, per esempio, prendessimo una parte, vi faccio capire, di informazioni da una lista batch, così, quando la incolliamo, vedete, viene fatta tutta in un modo strano, tutta così definita male, vedete, non rappresenta bene lo slash, perché andrebbe inserito in questo contesto la nota del testo specifico e non delle informazioni che fanno parte di un codice. Per esempio, se entriamo nel blocco e facciamo Shift Insert e lo incolliamo, guardate come viene identificato. Viene identificato, formattato bene, leggibile. E poi c'è la possibilità di copiarlo come blocco intero. Ma la cosa veramente figa è che se abbiamo un linguaggio di programmazione, per esempio, facciamo così, qui c'avevo qualcosa fatto in JavaScript, per esempio. Allora, copriamo proprio tutto il blocco così, ok, Ctrl Z. Ok, se lo mettiamo nella nota, nella nostra nota, al posto di questa parte batch, per esempio, voglio praticamente toglierla, ok, Shift Insert, eccolo qui. Come vedete, questo blocco praticamente è un blocco non definito, ok, noi possiamo tranquillamente copiarlo e vediamo le istruzioni. Ma il potenziale che offre la struttura BlockIt attraverso il Backtricks è praticamente che si avvale del Prism, che è un linguaggio di supporto. Il Prism in realtà è legato a un Prism.js, è una libreria JavaScript molto leggera, utilizzata per fornire una formattazione colorata per il codice sorgente all'interno di pagine web o di note, in questo caso, di Obsidian. Il linguaggio Prism accetta la bellezza, è un syntax highlighter, e praticamente accetta una marea di linguaggi di programmazione. Per esempio, in questo caso specifico, vedete, abbiamo inserito questo codice che è HTML e ci sono varie cose all'interno, ma noi, se vogliamo praticamente specificare questo blocco, all'inizio dei 3 Backtricks andiamo a specificare HTML. Cioè, stiamo dicendo, guarda che il codice che ne sussegue praticamente è HTML. E come vedete, ci evidenzia perfettamente tutte le istruzioni, la leggibilità diventa veramente unica, particolare, veramente immediata. Tra l'altro, il blocco, come vedete, è cambiato. Non c'è più un codice di blocco, diciamo, di default, non definito, ma ha definito questo blocco HTML. Quando lo copiamo, se clicchiamo su e lo copiamo negli appunti, lui sa che stiamo parlando, praticamente, di un codice HTML. Cosa possiamo fare con i Backtricks? Quanti linguaggi riesce a riconoscere? Beh, ho detto fatto, l'incolo qui, l'ho preso da internet, è giusto per farvi vedere. Questi sono tutti i linguaggi con High Glider Definition che sono gestibili attraverso i Backtricks. Sono la bellezza di 297 linguaggi e sono tutti elencati qui. APL, ARF, BBJ, alcuni non sono neanche... Si parla di JavaScript, CSS, Melness, cioè ce ne sono veramente una quantità incredibile, industriale, pazzesca. Quindi, ragazzi, ricordatevi che per definire, insomma, un blocco si parte con il tastierino numerico, tenendo premuto l'alto sinistro, poi si fa 096 e compare, praticamente, il primo... il primo... apriamone una nuova scheda, apriamo una nuova nota, ok? Allora, alto sinistro, 096, 096, 096 e inizia il blocco. Sbagliato, 096. Ok, in automatico ci mette anche la fine. Inizio e fine. Tutto quello che c'è all'interno è la definizione del blocco. Per esempio, se facessi if A uguale B, then, goto... Vabbè, è bruttissimo, quindi, goto... Goto salto, 0, 1. E gli diciamo, guarda, che questa struttura è COBOL. Attenzione, lui la identifica e già sa quell'istruzione importante, come dan, goto, e riesce tranquillamente a definire il tutto. Se fosse stato un altro linguaggio, non so, CSS, magari non credo riesce a identificarlo, infatti. Però, è veramente molto utile, ragazzi, perché mi sono trovato, spesso e volentieri, in contesti dove ci sono dei programmi batch che devo far vedere delle directory, delle cose, quindi incollarlo in questo modo non si capisce niente, mentre se vai a definire un blocco visivamente è veramente molto più organizzato. Guardate così, cioè, è veramente molto molto carino, cioè, ti potrebbe definire la cosa come batch, e anche se non c'è, diventa praticamente di default questo blocco. Se non fosse identificato del prism, cioè il censimento del like-light syntax, praticamente riesce a definirlo anche uno nuovo, te lo mette qui come blocco, copia, magari non riconosciuto, non colorato, ma come blocco. E con questo, diciamo, abbiamo visto i backtricks. Bene, adesso, ragazzi, passiamo all'incorporamento dei dati, che sembra una cosa semplice, ma va gestita veramente molto bene. Ho creato una directory incorporamento, con una nota incorporare i dati in una nota. Allora, l'altra volta abbiamo visto, praticamente, come si fa a collegare un'altra nota, con le due parentesi quadre, praticamente ci propone tutto quello che c'è, e ti dà la possibilità di specificare poi la nota. E avremo, praticamente, una sorta di link, dove noi, cliccando, andiamo direttamente alla nota. Ma c'è il concetto di embedded, cioè quello di incorporare una nota all'interno. Caccelliamo tutto e lo facciamo. Vi faccio vedere. Si inizia con un punto esclamativo, poi si aprono sempre le parentesi quadre, e in questo caso specifico, adesso, clicchiamo sulla nota prova, come vedete, viene, praticamente, incorporata la nota. Vedete, all'interno di questa, nella nota, incorporare i dati in una nota, viene incorporato quello che c'è scritto in prova, nella nota. Questo può essere veramente utile, perché c'è anche un link, dove ci fa puntare direttamente alla nota prova. Se clicchiamo, passiamo alla nota prova. Quindi, molto, molto, molto interessante. Ci sono tante altre caratteristiche, adesso andiamo a vedere. Una volta che abbiamo specificato la nota, possiamo... Facciamo tutto la capo, così vi è più semplice. Ripetendolo è anche più facile capire. Allora, apriamo, puntiamo a prova. Prima di cliccare e finire, abbiamo la possibilità, se arriviamo a questo livello, di specificare ulteriori contesti, ulteriori dettagli. Abbiamo la possibilità, con il codice cancelletto, di puntare a un titolo. In questo caso non ce ne sono, purtroppo, se no dopo ne mettiamo uno. Oppure addirittura farlo puntare a un blocco con il codice, praticamente, questo vedice. Ok. Quindi, in questo caso, per esempio, noi puntiamo al... Incorporiamo la nota prova, ma gli diciamo di andare a puntare su un... uno specifico blocco di codice. Questo string... Invece di mettere tutta la nota, puntiamo a string... ...arwritten inside quotes. Ok. Clicchiamo qui. Come vedete, adesso, praticamente, è appuntato al... ...al testo specifico del blocco. Adesso, se andiamo a vedere cosa fighissima sul link dedicato, quando andiamo a cliccare, vedete, ci evidenzia la parte della nota prova a quale... nella quale poi stiamo facendo riferimento. Questa roba qui, ragazzi, è veramente molto utile. Lo so che all'inizio può sembrare un po' incasinato, però vi dico che è veramente molto, molto interessante. Ripetiamo ancora qualche altra cosina, vediamo se è rimasta sempre prova. Voglio cliccare su prova. Vediamo un po' se ci propone altro. Sì, c'è anche la possibilità, questa prova già l'abbiamo visto, di cambiare il testo. Nel caso in cui noi volessimo puntare alla nota prova, ma questo testo non ci piace, possiamo, praticamente, dire... mettere qualcos'altro. Quindi, link delle informazioni, prova. Quindi, che cosa stiamo facendo? Praticamente stiamo inserendo un contesto diverso, praticamente stiamo dandogli la possibilità di inserire un link completamente diverso, diciamo, diverso da quello che viene specificato. In questo caso, però, più che altro, in realtà funziona probabilmente più per il puntamento alla nota vera e propria, non in questo senso. Perché se noi togliessimo l'imbed, cioè l'incorporamento, forse, ecco, in questo caso funziona. Quindi, giustamente, con l'incorporamento non viene specificato. Quindi, noi, se abbiamo questa prova, togliamo una parte, togliamo questa parte, ok? Noi puntiamo alla nota prova, praticamente, ok? Quindi, giusto per farvi vedere. Questa è la nota prova. Se non ci piace, possiamo, praticamente, andare a ridefinire col pipe, gli diciamo il nome della nota che vogliamo mettere, questo qua è il link delle informazioni, prova, e viene cambiato. È sempre il puntamento a prova, però viene mostrato, diciamo, un titolo diverso. Possiamo usare il simbolo di incorporamento di tante altre cose, per esempio, adesso proviamo a incorporare, per esempio, un'immagine che potrebbe essere questa, questa di Confucio, per esempio. Aspettate, adesso vediamo Confucio. Eccola. Ed eccola qua. Abbiamo incorporato questa immagine di Confucio, che è bellissima. Se sei la persona più intelligente nella stanza, allora non sei nella stanza, sei nella stanza sbagliata. Questa è bellissima come cosa. Va bene. Allora, ci sono altre caratteristiche. Per esempio, se abbiamo incorporato questa immagine, e vogliamo ridimensionarla, abbiamo la possibilità di usare il pipe. Per Didi, se non sbaglio, guarda, farmela al 50%, e viene più piccolina l'immagine. Ecco, ho esagerato un pochino. 50% facciamo l'80%, ok? Quindi possiamo... No, ho esagerato ancora di più, ragazzi. Mi sa che... Facciamo 150%. Ok. Ah, no, secondo me, scusate, ho detto la percentuale. In realtà, probabilmente, sono il peso dell'immagine, ok? Nel senso, o i pixel, probabilmente. 150, quindi facciamo 1500. Ecco, viene enorme, infatti. Quindi, facciamo così, 200. Ok, questo ci permette, insomma, di usare la stessa immagine, ma di ridimensionarla a piacere, come ci piace a noi, insomma. Questa può essere un'altra cosa molto, molto utile, molto carina. Se invece volessimo utilizzare, come prima, giusto che farvi vedere la differenza, confuso, il link all'immagine, ok? Non viene incorporata nell'immagine, incorporare dati in una nota, ma viene proposto il link, semplicemente. Quindi, noi possiamo cliccare su questo, e ci viene aperta l'immagine, così com'è. Invece, così, con l'embedded, con questo carattere, che è molto importante, lo utilizzo tantissimo io, ti dà la possibilità, insomma, il punto esclamativo di incorporare nella nota validati. Tra l'altro, si possono incorporare veramente tantissime cose. Ma, prima di passare ad altro, avevo detto, volevo far puntare all'interno di una nota, praticamente, un titolo. Infatti, andiamo a vedere prima in prova, prima non c'era. Facciamo così. Definiamo un titolo, titolo principale. Ok. Vediamo un attimo. In realtà, questo è di secondo livello. Mettiamo un titolo. Facciamo, titolo principale, quello grande. E poi ne mettiamo, no, fermo. Mamma mia. Contro Z. Titolo principale, questa non ci interessa. Eh, ma sei un delinquente, allora. Ok. Perché mi metti questo... Vabbè. Via. Allora, titolo principale, poi ne facciamo un altro titolo, semititolo, secondario, giusto per... Eccolo qua. Ok. Due titoli. Adesso nella nota, però, abbiamo due titoli e facciamone puntare a questo, giusto per capire, per chiudere il cerchio. Ok. Quindi, in questo contesto, facciamo un embedded. Voglio, praticamente, incorporare la nota prova. Quindi, scrivo prova. A questo punto. Però, prima di fare questo, voglio vedere cosa... Voglio puntare al titolo. Quindi, utilizzo il tasto di Esist. Ok. E come vedete, ci fa vedere proprio H1 e H2. Addirittura la codifica in HTML. Voglio puntare al titolo principale. Ok. Quindi, vedete, ci fa un embedded il titolo principale. Adesso, proprio perché c'è anche il titolo secondario sotto, quindi, ci dà la possibilità di... di vedere anche il secondo. Però, adesso puntiamo al secondo. Ecco, ci evidenzia, se clicchiamo su link, quello che abbiamo selezionato. Adesso, puntiamo al secondo, così è molto più chiara la cosa. Ok. Andiamo al titolo secondario. Dovrebbe sparire il titolo principale. Infatti, guardate, il titolo secondario con tutto il test e roba vale. Se clicchiamo, andiamo direttamente al titolo secondario. Va bene, ragazzi. Cosa dire? Sembrano... Sono cose abbastanza semplici, ma nella quotidianità sono cose veramente utili, interessanti, e vi permette di avere con Obsidian una relazione tra le note e i vari incorporamenti veramente molto molto utili. Ricordo che l'incorporamento dei dati non va a aumentare le dimensioni del testo perché è soltanto un puntamento ad un oggetto che hai già nella struttura di Obsidian. Quindi, è veramente anche... fa risparmiare anche molto spazio, molto molto interessante. Va bene, con questo è veramente tutto. Mujedin, l'ultimo dei talebani napoletani, vi ringrazio. A presto e ciao ciao ragazzi.